come risolvere i problemi di sconnesso dai server di Rust andiamo un attimo sulla proprietà di Rust sui file locali di Rust entriamo in questa cartella andiamo nella cartella EasyAntiCheat e in questo caso, visto che a me l'EasyAntiCheat non si apre ma se a voi si apre c'è una riparazione da fare quindi voi cliccate su quella riparazione se in questo caso non dovesse andare EasyAntiCheat c'è un altro metodo per risolvere questi problemi della disconnessione dai server di Rust andiamo un attimo sulle impostazioni rete e internet andiamo su mostra altre opzioni di schede quindi più schede di rete sulla nostra scheda di rete fate disabilitare la scheda di rete e mi raccomando, riavviare il PC ragazzi dopo che si è riabilitata così la connessione riavviate il PC e riaprite Rust quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial e lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao